Cambiamo argomento. Come è nato l'uomo e quali sono le radici dell'umanità? Una domanda grandissima. Bene, ci sono, naturalmente per una parte di questo tema, delle soluzioni, delle ipotesi. Centinaia di studiosi, professori e scienziati hanno creato diverse teorie proprio sulle origini dell'umanità. Ci sono però dei ricercatori, per così dire, indipendenti, che sostengono che l'uomo derivi dagli annunachi. Chi sono gli annunachi? Sono coloro che dal cielo alla terra vennero. Questa è la frase originale. Erano dei giganti extraterrestri che avrebbero creato l'uomo geneticamente come un ibrido tra loro e l'uomo erectus. Una teoria affascinante, una teoria tanto affascinante quanto rischiosa e scivolosa. Bene, questa sera noi di Voyager vogliamo capire cosa può esserci di vero in questa favola fantastica. Da dove arriva la specie umana? Quali sono le sue vere origini? Ricercatori ed esperti di tutto il mondo hanno ottenuto spesso risultati contraddittori. E ci sono alcune insolite teorie che puntano il dito verso il cielo, perché esistono indizi che sembrano suggerire un'ipotesi fantastica. Che ha insegnato ai Sumeri le dimensioni dei corpi celesti e la loro esatta disposizione nel sistema solare. Come può il popolo dei Dogon nel Mali tramandarsi da generazioni la strabiliante conoscenza di Sirio B, la stella compagna di Sirio scoperta soltanto nel 1862? E che cosa significano gli arcani simboli scolpiti sulla colonna che affianca il misterioso guerriero di Capestrano, ritrovato in Abruzzo nel 1934? Stiamo per analizzare le ultime incredibili ipotesi riguardo l'origine della vita sulla Terra. Ma non solo. Seguiremo le tracce delle più sacre reliquie della cristianità. Entreremo nei più oscuri segreti del nazismo esoterico. Questo ed altro tra poco, dopo la pubblicità. Il vero cammino dell'evoluzione umana non è stato ancora esattamente ricostruito. Il nostro viaggio inizia da un luogo molto lontano nel tempo. 16.500 a.C. L'Europa è ancora immersa nella lunga stagione glaciale. Siamo ancora migliaia di anni prima delle grandi piramidi d'Egitto o di Stonehenge. Dordogne, nella Francia centro-occidentale, sembra un luogo fiabesco in cui i castelli e villaggi medievali sono immersi nel verde. Ma qui, nei pressi di Montignac, si trova anche la grotta conosciuta nel mondo come la Cappella Sistina della Preistoria, la Cattedrale dell'Arte Rupestre Paleolitica, la Grotta di Lascaux. La storia della scoperta di Lascaux parte dall'iniziativa di quattro giovani adolescenti. Nel cercare un percorso sotterraneo che portava a un maniero, nella parte bassa della collina, nelle vicinanze di Lascaux, arrivarono in prossimità di questo piccolo pertugio. Era il 1940 e fu subito chiaro che si trattava di uno dei più importanti ritroppamenti archeologici mai fatti. L'interesse per il sito preistorico fu tale da rendere necessaria la costruzione di una copia fedele della grotta originale a pochi metri di distanza, per consentire ai visitatori di continuare ad ammirare le pitture parietali che andavano via via deteriorandosi. E ciò che si ammira è un immenso affresco formato da 1600 figure, vecchio di 18.500 anni. L'arte parietale di Lascaux presenta caratteristiche del tutto originali su più livelli. La grotta stessa è una piccola cavità lunga a 250 metri, ma le pitture e i disegni che sono riprodotti nelle pareti sono di dimensioni colossali. La figura più grande è situata nella sala dei tori e misura 5,50 metri di lunghezza. È enorme. Che cosa rappresenta questo misterioso fiume di animali che scorre sulle pareti? Questo sito archeologico è un enigma. Da decenni gli esperti provano infatti a capire perché gli antichissimi autori degli affreschi si avventurarono nel ventre profondo della terra per dipingere figure così gigantesche. Nella cosiddetta sala dei tori, posta vicina all'ingresso, vi sono dipinti a semicerchio sulla volta quattro auroch e un liocorno. I disegni sono realizzati con un pigmento di manganese nero. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che queste figure possano rappresentare una mappa celeste che indicava agli abitanti l'avvicinarsi del solstizio d'estate. Proprio sopra la testa del primo toro sono stati dipinti sei piccoli cerchi, apparentemente senza alcuna connessione col resto dell'affresco. Che cosa potevano significare? C'è chi sostiene che si tratti del gruppo di stelle delle Pleiadi, nella costellazione del toro. Uomini preistorici che dipingono le Pleiadi sulle pareti di una grotta. È possibile? Ma c'è dell'altro. Nella grotta comparirebbero altre otto costellazioni disposte lungo l'eclittica che con sbalorditiva precisione ricostruiscono una sorta di zodiaco preistorico. Sono solo suggestioni? Pure coincidenze? Nessuno può dire con esattezza quale fosse la funzione delle figure di Lascaux né la visione del cosmo dei popoli che le dipinsero. Popoli primitivi dalle conoscenze astronomiche avanzate che non si conciliano con il loro grado di evoluzione. Le affascinanti teorie sulla grotta di Lascaux pongono interrogativi sullo sviluppo dell'umanità. Le nostre conoscenze attuali lo sviluppo tecnologico la scoperta di nuovi materiali l'ingegneria genetica sono realmente il frutto naturale dell'evoluzione. La storia ci insegna che lo sviluppo della civiltà è avvenuto attraverso grandi salti di conoscenza. Si tratta di fenomeni sempre casuali o a volte potrebbero essere stati provocati da impulsi esterni. E' possibile che una mano sapiente e antichissima abbia guidato l'essere umano sin dalle sue origini? Dopo milioni di anni di cammino lentissimo e faticoso lo sviluppo della civiltà accelerò improvvisamente. Circa 6.000 anni fa si insediò nel territorio dell'attuale Iraq una delle più antiche e misteriose civiltà. I Sumerif non si conosce l'origine esatta di questa popolazione è invece chiaro che i Sumeri fossero dotati di conoscenze avanzate sin dalla loro comparsa. Conoscenze tali da fornire le basi di tutte le grandi culture che seguirono. I Babilonesi gli Assiri i Greci e poi i Romani fino alle culture moderne. La scrittura la matematica l'ingegneria l'astronomia tutti gli aspetti della civilizzazione che noi consideriamo essenziali sembrano aver avuto inizio dai Sumeri. Ma come è raggiunto questo popolo a tali conoscenze? Nei loro miti i Sumeri fanno riferimento a una leggendaria città-stato Aratta. Aratta viene descritta come una città molto ricca e potente con la quale i Sumeri ebbero relazioni sin dalle origini. Era distante da Sumer e protetta da montagne invalicabili ma non così inaccessibile da impedire relazioni commerciali. sfortunatamente Aratta e i suoi tesori di inestimabile valore sembrano andati perduti per sempre ma c'è una recente scoperta che potrebbe riscrivere la storia che conosciamo è avvenuta a Jirov nel sud dell'Iran e ancora una volta abbiamo portato lì le nostre telecamere per corso migliaia di chilometri per documentarmela. Piccoli gruppi di cacciatori popolavano le montagne del sud-est dell'Iran sin dal Neolitico è una zona in cui si alternano paesaggi e climi differenti dai maestosi gruppi montuosi del Paiè all'abbagliante deserto dell'Ut Non c'è alcun luogo nella Mesopotamia del terzo millennio avanti Cristo che presenti caratteristiche come queste qui siamo in presenza di una cittadella fortificata di 300 metri quadrati ogni cosa è gigantesca ma ancora non sappiamo il perché oggi crediamo che questo sito sia stato nel passato la capitale di un grande regno che partiva da Bam 100 chilometri a nord da qui fino al lago di Jasmurjan 300 chilometri a sud Nel 2001 dopo un'inondazione del fiume all'Ilrood vennero alla luce alcuni vasi inclorite statuette di rame e coppe decorate la vecchia idea che la Mesopotamia fosse la culla della civiltà e che le regioni circostanti fossero secondarie e dipendessero da lei è ormai superata sono assolutamente sicuro che qui siamo ad Aratta durante gli scavi sono venuti alla luce frammenti di tavolette che recano incisi caratteri di una scrittura ignota non è né cuneiforme né di altro tipo allora conosciuto ma rivela caratteristiche originali le recenti scoperte di Jiroft obbligano a gettare uno sguardo nuovo sulla formazione della civiltà tra il quarto e il terzo millennio avanti Cristo uno dei più grandi esperti di archeologia sumera in grado di leggere e interpretare la scrittura cuneiforme si chiama Zakaria Sitchin i sumeri lasciarono tracce di quanto sapevano e avevano visto in vari modi uno di questi era l'uso di tavoletti di argilla per scriverci sopra con il sistema cuneiforme questa che vi mostro è l'esempio di una tavoletta di piccole dimensioni ve ne sono molte altre più grandi che raccontano storie molte delle quali presenti anche nella Bibbia come la storia del diluvio di Noè e della creazione di Adamo la mitologia sumera secondo quanto raccolto da Sitchin racconta una storia della creazione che va al di là di una semplice rappresentazione mitologica è una sofisticata cosmogonia che sembra descrivere scientificamente il nostro sistema solare i sumeri conoscevano i pianeti raffigurandoli correttamente nelle forme e nelle dimensioni su un sigillo analizzato da Sitchin è raffigurata una grande stella radiosa centrale il sole circondata da 11 globi mi sono molto appassionato a questa immagine perché mostra il sistema solare con il sole al centro circondato da pianeti 4500 anni fa i sumeri sapevano che nel nostro sistema solare il sole e non la terra come avrebbero creduto più tardi i greci e i romani era al centro i sumeri inoltre conoscevano l'esatto ordine dei pianeti come lo conosciamo oggi Niccolò Copernico nel XVI secolo affermò che la terra e gli altri pianeti ruotano intorno al sole i sumeri sembravano saperlo già 55 secoli prima e sembravano conoscere persino Urano scoperto nel 1781 Nettuno e Plutone scoperti anche più tardi i sumeri conoscevano un pianeta di cui ancora oggi noi ufficialmente non sappiamo nulla il pianeta era conosciuto con il nome di Nibiru che significa pianeta del passaggio il suo simbolo era la croce dicono anche come questo pianeta diventò un membro del nostro sistema solare con la sua lunga orbita ellittica che secondo il nostro sistema di calcolo dura più o meno 3600 anni secondo Sitchin l'arrivo di Nibiru provocò una catastrofica trasformazione nel nostro sistema solare la collisione con Tiamat un pianeta situato fra Marte e Giove grossi frammenti di questo pauroso impatto avrebbero poi dato origine alla terra e alla luna ma come facevano i sumeri a conoscere le dimensioni dei corpi celesti e la loro esatta disposizione nel sistema solare perché sostenevano che Nibiru fosse abitato i segni della possibile esistenza del decimo pianeta sono presenti in molti luoghi lontani fra loro nel tempo e nello spazio uno di questi potrebbe trovarsi anche qui in Italia a Bari in una zona ritenuta sacra sono presenti testimonianze di insediamenti neolitici numerose grotte ed alcune chiese rupestri qui è stato scoperto un ipogeo una costruzione sotterranea sul cui soffitto è inciso un antico archeometro astronomico stelle disegnate molti secoli fa il sito si trova su uno dei rami della cosiddetta lama piccone le lame sono antichi letti di fiumi ormai completamente secchi che dalla murgia arrivavano fino al mare la loro esistenza testimonia la presenza umana già a partire dal neolitico in ambienti ricavati scavando nei calcari e nei tuffi di tutta la zona sono state ritrovate selci lavorate e utensili l'incisione realizzata con rudimentali scalpelli è di difficile datazione ma con ogni probabilità risale a un'epoca precedente al medioevo è la rappresentazione della volta celeste secondo un'antica tradizione astronomica risalente agli egizi e poi introdotta in tutta l'Europa ma cosa ci dice l'astronomia contemporanea al riguardo? uno dei più grandi osservatori astronomici si trova sul Mount Graham in Arizona è un centro internazionale di ricerca è anche sede del VAT il Vatican Advanced Technology Telescope l'osservatorio astronomico della Santa Sede o specola vaticana